Il 5 marzo di 5 anni fa, Terni si schierava al fianco dei lavoratori della Basel che vedevano minacciato il proprio posto di lavoro. Oggi, 5 anni dopo, la situazione di questi lavoratori, una cinquantina in tutto, è drammatica o quasi. Senza lavoro, con gli ammortizzatori sociali oramai gli sgoccioli e con prospettive nerissime. Per questo che hanno convocato una conferenza stampa questa mattina, ce l'hanno con tutti i lavoratori della Basel, nessuno escluso. Con le istituzioni in primis, ma anche con le organizzazioni sindacali, colpevoli non solo di non essere riusciti a trovare una soluzione, ma di averli lasciati soli. Vittime da sacrificare per salvare il polo chimico ternano, dicono. Soprattutto si sentono presi in giro i lavoratori della Basel, perché le manifestazioni di allora, i lunghi incontri per trovare una soluzione, altro non sono stati che un modo per prendere tempo e ludere gli stessi, molti dei quali hanno una famiglia alle spalle e un futuro difficile da immaginare. Le promesse di riconversione nella chimica verde, di riassunzione, oggi appaiono come fumo negli occhi che fa scendere lacrime di rabbia.